E' stato un pomeriggio lungo, ricco, stancante perché i pomeriggi così ricchi poi alla fine con tutta questa corsa, tutte queste relazioni, informazioni, è inutile far finta, non è che uno poi non si stanca, quindi tagliamo le presentazioni completamente, d'accordo? Io azzarderei soltanto una nota, che se le cose vanno bene è merito di Luciano e se le cose vanno male è colpa di Luciano e con questo abbiamo risolto, su questa ambiguità io me la caverei molto bene, va bene, a parte gli scherzi, grazie tantissimo per essere qui ancora a resistere ovviamente in una varietà di trincee perché è l'ultima relazione, il pomeriggio, la giornata, le giornate sono state molto molto ricche di spunti, problemi, dubbi e a me rimane un po' il compito di fare l'impossibile, cioè di raccogliere qualche idea e fornirvi da un lato una prospettiva che spero non sia necessariamente del tutto convincente, cioè che voi troviate un po' una qualche resistenza così, e che dall'altro possa aiutare a capire un po' meglio questa questione dell'etica. Allora il titolo qua e tutto il resto sarà un po' in inglese per la pigrizia del romano qua, ma è esattamente quello di cui parlerò, l'etica dell'intelligenza artificiale e le sue conseguenze. Allora mi sembra che c'è un po' di agitazione, ma siamo tutti benissimo, andiamo a posto e ho saputo, come dovrebbe essere, che ci stiamo registrando e quindi poi se volete veramente sapere come la penso, ne parliamo dopo. Scherzi a parte dovrò essere delicato magari anche nelle critiche. Allora questa è la mappa delle cose che vi racconterò negli scarsi 30 minuti a mia disposizione, e cioè vorrei iniziare convircivi di una prospettiva, e cioè che l'intelligenza artificiale sia un divorzio. Il divorzio tra la capacità di agire e la necessità di essere intelligenti per avere successo nell'agire. Lo rifaccio un'altra volta perché poi mi legge a lungo. Da una parte c'è l'azione, dall'altra parte c'è l'intelligenza. Noi prima di oggi non siamo mai riusciti a sganciare l'una dall'altra senza cadere nella stupidità, cioè che tu quando agivi senza essere intelligente facevi scemenze. E dai tempi degli schiavi, degli animali, del mulino, di tutto quello che volete, che per fare le cose fatte bene ci devi mettere un po' di cervello. È la prima volta nella storia umana che non è vero. Cioè tu oggi puoi giocare a scacchi meglio di chiunque altra persona ha intelligenza zero. È miracoloso. È anche problematico. Perché allora non è vero che queste cose qua, come già sentivamo prima, sono tanti intelligenti. Perché io dormirei più tranquillo se fossero un po' intelligenti, nel senso magari le eutiche, gli fai qualche cosina, è che sono totalmente stupide. E la stupidà genera mostri, come sappiamo. Allora su questo divorzio lì si innesta la questione etica. Cioè da questo divorzio nascono un po' di problemi. Allora questi problemi poi sono delle sfide. Dico sfide perché ci sono delle cose buone qua, un po' come tutte le cose un po' ricche, come si direbbe a Roma, chi non risica non rosica. Insomma, se non ci sono rischi, c'è anche poco da guadagnare. C'è molto da guadagnare qui, ma c'è qualche rischio mentre lo facciamo. Una conclusione e speriamo appunto di non avervi fatto morire di sonno. Perché, ve l'ho detto, pomeriggio è stato lungo. Allora, una slide per dire che è successo nell'intelligenza artificiale. Allora, quando la insegnavamo, o la insegnavo io che facevo il professore di logica tanti tanti anni fa, in un'altra galassia proprio, la insegnavamo utilizzando la logica deduttiva, che sarà questa cosa se A allora B. Gli esperti mi perdoneranno. Non è più così. L'intelligenza artificiale è fatta in quel modo lì, che si chiamava prologo, proprio un altro mondo. Ecco, noi oggi la facciamo molto di meno. Oggi la facciamo con la statistica, che non è se allora A, se A allora B, ma è questo è correlato a quest'altro. In che senso? Fotografia, 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 fotografia. 9.900 notari, 10.000 fotografie e finalmente la correlazione è gatto. Bellissimo. Straordinario. Cioè, lo capite che c'è una macchina che capisce che quello è un capisce, tra virgolette, cioè antropomorfismo, cioè che riesce a dire gatto avendo visto 10.000 fotografie di gatto. Non era mai successo. Il mulino quello non lo sa fare. E l'ultima volta che sapevamo farlo l'abbiamo fatto noi da bambini in tre secondi, perché eravamo intelligenti. Il computer non è necessariamente ingente. E d'ora in poi lo riconoscerà sempre quello come gatto. E quindi di Facebook, siamo tranquilli. Questo vuol dire che, ad esempio, nel contesto del riconoscimento della voce umana, ormai associa, 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 tun 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 tun, alla fine capisce di nuovo antropomorfismo. Noi non abbiamo il vocabolario, uno dei problemi dell'intelligenza artificiale è che abbiamo un vocabolario per l'unica intelligenza che abbiamo mai conosciuto, che è la nostra. E quindi inevitabilmente capisce, vede, sente, non è così. E quindi perdonatemi, questo è un vocabolario sbagliato, ma è l'unico che abbiamo. Lo svilupperemo quello giusto. Nel senso, allora, momento così biologico, personale, fate finta di essere negli anni 90. Siamo a Oxford, io devo ordinare un benedetto biglietto per il cinema e l'unico modo per farlo è al telefono. E quel maledetto cinema sta in una strada che se non sei nato lì, tu quel, adesso ci riprovo, ma non è mai funzionato, allora, George Street, niente, repeat please, George, il biglietto chiedevo a mia moglie, senti, senti, per favore, compra sto biglietto. Poi, oggi, se gli dici George Street lo capisce subito, è straordinario. Guardate che è stato un balzo in avanti, veramente significativo nella capacità di queste macchine di gestire i dati. Allora, di lì in poi, e gli ho detto, sono 5 e mezza, quindi facciamo un po' leggera, ma così funziona. E questo funziona anche quando, no, devi identificare quel target e dire quel target è un target militare oppure no. George Street lo capisce subito. Capisce, eh? Allora, un divorzio, perché poteva essere un matrimonio? È come ci viene venduto normalmente, adesso, facciamo, potremmo continuarla a lunga, facciamo un corretto magari, ecco. Questo ci viene costantemente venduto come un divorzio, scusate, come un matrimonio, essendo un divorzio, un matrimonio tra cosa? Tra, da un lato, una qualche forma di intelligenza biologica, fosse anche quella del pesce rosso, e dall'altro, uno strumento che è stato ingegnerizzato da qualcuno, a un certo punto, come dire, l'intelligenza biologica e l'ingegneria fanno questo matrimonio, si chiama intelligenza artificiale. Non è così. Dice, ma il resto ce lo dice il filosofo di Oxford, a parte che ve l'ha già detto, come dire, il fisico americano o italiano, però questa cosa qua ha subito un'obiezione. Ma se allora è un divorzio, com'è che funziona così bene? George Street. E funziona bene per tutte queste ragioni, perché non è vero, di nuovo, adesso c'è quante cose da revisionare qua, non è vero che stiamo costruendo macchine che si adattano al mondo. Stiamo adattando il mondo alle macchine. E questo è un po' pericoloso, nel senso che qualche challenge la pone. Cioè, quando voi andate a vedere tutta questa discussione sulle automobili che si guidano da sole, ma voi pensate veramente che stiamo costruendo dei robottini che, scusa, aspetta Luciano che adesso guido io, si mette lì e il robottino va, guida con il volante le marce. Non è così, no? Cosa stiamo facendo? Stiamo trasformando le automobili in modo tale che il volante non ci sia più, i pedali non ci siano più e l'ambiente, sensori, telecamere, satelliti, mappe digitali, tutto il resto facciano sì che quell'automobile vada A a B senza necessità che qualcuno la guidi. Abbiamo trasformato l'ambiente affinché quell'oggetto abbia successo. In ingegneria meccanica si chiama envelope. L'ingegnere meccanico vi descrive lo spazio tridimensionale dove il robot ha successo come la envelope del robot. Benissimo. Vedete che l'omino sta in alto, no? Lì su a sinistra. Non è fatto per lui quello spazio. Allora, i costi si abbassano. La computazione è ormai una cosa che ne abbiamo più in tasca che la NASA quando ha messo l'uomo sulla luna, eccetera, eccetera. Quante volte le avete sentito? Ma è vero. Dati che tra un po' vi faccio vedere, ma lo sappiamo benissimo, li abbiamo fatti tutti noi, ce ne abbiamo al gazillioni. Abbiamo un machine learning molto più bravo, nel senso la statistica ha fatto faville su questa roba e anche gli algoritmi. Abbiamo tantissima IoT, cioè Internet of Things. Basta entrare in cucina ormai. È tutto semidigitale. Tutto si parla. Quando entri in casa, tutte quelle lucette verdi e rosse. Ma che dicono? Boh, ma mica è per noi. Parlano tra loro, perché la maggior parte dei dati che abbiamo sono machine to machine. Mica parlano con noi, si parlano tra di loro, chissà che si dicono. E poi online, cioè noi sempre più viviamo immersi in questa infosfera, in questa informazione. Passiamo sempre più tempo da quella parte o in questa mescolanza di online, offline, digitale, analogico. Allora è normale che i veri nativi qua non siamo noi. Noi resteremo sempre analogici. Il vero nativo, in uno spazio di informazione, ma non sarà mica l'algoritmo, è certo che è lui. Ci ha visto quanto va bene quel pesce? È l'acqua. Tu sei un sommozzatore. È chiaro che resterai per sempre un sommozzatore nel mondo dei dati, ma i dati, quello lì, ci nasce dentro. È digitale che gestisce il digitale. Dice, ma allora è tanto stupido quanto ma nemmeno pesce rosso. Eppure l'acqua è fatta per lui. Allora questo è l'acqua, diciamo così, metaforia. Tutti questi dati, e di questo ne trovate tantissimi, me ne faccio vedere una, ma tutti questi dati, la cosa spaventosa, sapete qual è secondo me? È quel numeretto in basso a sinistra, 2005, dove non si vede la curva. Perché è spaventoso? Perché vuol dire che tutti i dati che abbiamo, fatta eccezione per qualche frazione di percentuale, li abbiamo creati noi. Viventi, eh? Dal 2005 a oggi. Negli ultimi 15 anni. Capite che l'infinitesimale che va indietro, include Shakespeare, Dante, tutto il resto, ma quella qualità, non quantità, la massa di dati è tutta stata costruita nell'ultimo quindicennio. E allora, a parte che quello, vi dicevo, è lo spazio in cui stiamo operando e quindi all'interno di quello spazio questi algoritmi funzionano molto meglio di me che dovrei contare le robe. Ma non per oggi, magari un'altra volta. Guardate che questi qui sono nati tutti insieme e muoiono tutti insieme, eh? Qualcuno, da qualche parte, lo so che ci sta pensando, ma il crollo verticale di questa roba qui, quando andrà tutto in pensione, come dire, il baby boom qua, sarà notevole. Perché dove li mettiamo questi dati? Quando diventeranno obsoleti, bisogna curarli, bisogna far sì che passino da una tecnologia all'altra. Problemi non per oggi, ma problemi. Allora va bene, siccome si è parlato molto di complessità, ma questa intelligenza artificiale, va bene, sarà un divorzio? Ma vediamo. E sguazzano i dati, tanti, forse, riesce a fare cose senza essere intelligente. Bene. Quando l'abbiamo definita a Dalton, più di 50 anni fa, l'abbiamo definita noi, esseri umani, o meglio, John McCarty, che era tanto simpatico, è morto, poverello, ma, e diceva, guarda Luciano, non ci posso credere, un successo questa, questa frasetta intelligenza artificiale, dovevamo prendere dei soldi, come sapete, per fare un piccolo workshop e abbiamo lanciato lì, no, questa frase. Ha tirato, appunto. Se andate a vedere la definizione, la definisce in termini di una cosa tale che, se fosse fatta da un essere umano, sarebbe percepita come intelligente. Giustissimo. Se tu vedi qualcosa, non lo sai, chi sta giocando la partita, la sta guardando su uno schermo, dici, è un essere umano? Se è un essere umano, quello è intelligente. È una macchina? No, non c'è bisogno. Va bene? Allora, questa, se volete, la ripeto ancora una volta, ma ormai è assodato. E allora, noi che cosa è che facciamo con l'intelligenza artificiale, che è statistica, che sguazzano i dati, che è un divorzio. Questa cosa ve la devo far vedere con un po' di gentilezza. Lo so che potrebbe far del male. Ci sono un paio di assi cartesiani. Ecco. Vabbè. Allora, siccome si è parlato tanto di complessità, poi magari uno alla fine dice, ma sta complessità non sarà mica che vuol dire complicato. No? No. Allora, prima definizione. Il complicato è qualcosa che tu non capisci. Come quando stavi a scuola, il teoremino di geometria oclidea è complicato. È colpa mia. Se qualcosa è complicato nel mondo, è colpa tua. Per questo nessuno dice che le cose sono complicate. E tutti dicono che sono complesse. Perché se sono complesse è colpa sua. Il problema è complesso. Se fosse a me io l'avrei capito, ma è complesso. Ebbè, è complesso lui. Se invece dici, no, guardi, il problema è complicato, guardi, sarà lei che non l'avrà capito, perché a me sembra semplicissimo. Allora, su questa distinzione, la complessità qua è una cosa seria. A informatica, dove io tengo l'altra gamba delle due, per complessità intendiamo il numero e la quantità e qualità di risorse richieste per risolvere il problema. È come se tu definissi i problemi sulla base della loro dieta. Ma quanto mangia questo problema? Che cosa mangia? A seconda di quello che mangia, tu definisci i problemi. Oh, questa è proprio complessità one on one per beginners, quella però vera, quella che facciamo a computer science. Va bene, allora la complessità è una questione di risorse. E che risorse? Le risorse sono due. A informatica, ma poi uno può essere un po' più ampio. Tempo e spazio. Tempo in che senso? Quanti passi mi servono per arrivare dal problema alla soluzione? Tac, 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 tac. Si parlava di linee di codice un altro tempo. Oggi si potrebbe semplicemente dire quanto tempo ci vuole a quello neural network per conformarsi in modo tale che dica gatto. Poi, quanto spazio? Memoria. E quanta memoria mi serve per far sì che tutto questo venga elaborato? Allora, le risorse qui sotto mettetele da zero a uno e le chiamiamo, per semplificare, i problemi sono semplici o complessi a seconda della quantità di risorse richieste. Oh, su questo ormai non dovrebbe più spaventare nessuno. Beh, questo è l'asse delle X. Poi c'è l'asse delle Y, che è quella delle capacità, degli skills. E quelli vanno dal facile al difficile. Arrivano degli esempi, eh. Ad esempio, allora, accendere la luce. Io sono sicuro che almeno una persona qua dentro, sicuramente sottoscritto, ha avuto un ragazzino antipatico che si è tac, 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 tac. Dice, stai fermo con le mani, c'è, e accende la luce, spenge la luce, spenge la luce, o magari il computer, peggio ancora. È facile, il passo è un passo solo, un click. Quindi la computazionale è veramente molto semplice. Un click. E quanto è difficile? Lo fa un bambino di 5 anni. Quindi è sia semplice, sia facile. Ci siamo? Oh, non mi lasciate qua, eh. Cioè, ci siamo quasi arrivati. Allora, ecco. Allora dice, e allora la cosa difficile, ma pur sempre semplice, è allacciarsi le scarpe. Allacciarsi le scarpe non è banale, è difficile. Io me lo ricordo ancora quando mamma, poi mamma sempre in genere, che mi ha insegnato a come si allacciano le scarpe. Tant'è vero che il CEO, non mi ricordo più, ma tanto googlare è facile, o della Alidas o della Nike, una delle due, ricordava recentemente che se voi trovate una scatola di scarpe in cui i lacci sono stati infilati bene, è stato un essere umano. Perché il computer robottino che mette i lacci nelle scarpe non ce l'abbiamo ancora, eh. Questo è quanto gli skills sono sviluppati. Cioè, va bene. Allora, qua, sulla catena degli skills. E dice, il complesso? Qui banalizzo tantissimo. Adesso, gli ingegneri si tappino le orecchie. Vi ricordate le risorse? Il problema è, tanto più è grande il problema, tante più risorse. Allora, ci vuole un algoritmo. I piatti da lavare. Tanti più piatti, tanto più ci vogliono risorse. Banalizzo è perché in realtà la complessità poi non è sulla quantità, ma insomma, per intenderci. Dice, allora, guarda, Luciano, dice mia moglie, lo fa anche un filosofo, l'algoritmo è elementare. Prendi un piatto, ci metti il sapone, lo sciacqui, lo risciacqui e lo asciughi. Uno, due, tre, uno, due, tre. Questa è la pila, vai che sei solo. Ma? E io faccio il computer. Prendo il piatto, ci metto il sapone, lo lavo sotto l'acqua, lo asciugo, prendo il piatto. Facilissimo. Tant'è vero che è facilissimo. È complesso perché la pila di piatti è enorme. Quindi le risorse richieste, tanto sapone, tanto tempo, tanta acqua. Ma è semplice, lo fa anche un filosofo. E il filosofo risponde alla neuroscienziata, mia moglie che sta su. Eh, sì, però stirare no. Eh, vai che sei sola. No, stirare è difficile. È difficile e complesso. Lo stirare aumenta nella sua complessità, tanto più sono le camicie. Ma lo skill che ci vuole nello stirare non è come lavare i piatti. Eh, lì ci vuole un neuroscienziata. Tanto, registrazione. Allora, dice, e tutta questa storia che ci ha tenuto due minuti su questa agenda qui, che vi assicuro, è perché se vi avessi detto che l'intelligenza artificiale traduce il difficile in complesso, voi avreste pensato, filosofo, è così. L'intelligenza artificiale traduce il difficile in complesso. Perché la complessità, definita così chiaramente, la intelligenza artificiale la mangia a colazione. Gazzilino di dati? E che gli importa? Sempre accesa? Prima o poi ci arriva? È per questo che oggi funziona così bene. Perché abbiamo tonnellate di dati, grandissima statistica, che ci permette di tradurre una cosa come riconoscere i gatti su Facebook, che per un essere umano è banale, è una cosa che per quel neural network è complicatissima, nel senso di complex, eppure lo fa benissimo. Allora immaginate il futuro in cui noi traduciamo sempre di più il difficile in complesso. Dove questo si può fare ci sarà intelligenza artificiale, dove questo non si può fare o costa troppo, non perché non sia possibile in laboratorio, ma chi me lo paga questo? Allora questo non avverrà. Allora questo vi ho dato un po' un quadro, quindi stiamo creando un mondo intorno a queste macchine. Vi ricordate? Non abbiamo il robottino che guida, stiamo proprio togliendo il volante. Adattare l'ambiente alle capacità del robottino. Poi abbiamo tantissimi dati, ci sono molti altri fattori, non per oggi, dati sintetici, altre cose complicate, ma non per oggi. E allora qua l'ultima cosa è farvi vedere un piccolo video. Questo qui non è il futuro. Questa è bellissima, funziona, l'hanno fatta a Madrid, dei colleghi molto bravi, di robotica. E questo stira le camice? Vedi sopra. Dice, allora lo sa fare il robottino. Sì, ma non serve a niente, perché questo non è il futuro. Perché? Ma perché questo non fa enveloping, non ha trasformato l'ambiente in quello che fa lui. È lui che sta cercando di adattarsi all'ambiente. Allora la camicia ce la devi mettere tu lì sopra. Quando ha finito la devi prendere tu e metterla a posto. Dice, allora guarda, la stiro pure, perché a quel punto è grande come me, cioè un metro e 80 e richiede una stanza. Pensate che sia commerciale? La camiciola ve la fa. Questo invece è esattamente quello che ho descritto. Questo attrezzo qua è in vendita. Mi pare che costa 3 o 4 mila dollari, adesso non so se qualche acquirente mi può qua. Io non l'ho comprato perché è un prototipo, non azzarderei. Ma questo qui, ci metti la camicia dentro e te la sputa stirata. Intelligenza 0. Quando lo vuoi, a Natale. Perché ovviamente questo è l'embelopi che vi ho detto. Traduzione del difficile e incomplesso, trasformazione dell'ambiente in una scatola all'interno della quale il robot ha successo. È come la lavastoviglie, è come la lavatrice. Ma chi è che lava i piatti in quel modo? Chi è che lava i panni in quel modo? Nessuno, spero, a casa. Però tu gli hai fatto una bella scatola e lì dentro fa quello che gli pare, purché il risultato sia di successo. Allora uno comincia a capire, diciamo, no, forse questo divorzio è da questo divorzio che ci tiriamo fuori. Tante cose belle, tante cose brutte. Il verde sono le cose buone. Potrebbe, in termini di opportunità, riempire questi quattro box. Potrebbe aiutare la nostra autorealizzazione come esseri umani, migliorare la nostra capacità di azione, aiutarci a essere un po' più socievoli tra noi, coordinamento e coesione, e aiutare appunto questa coesione sociale in modo tale, ad esempio, che ridistribuzione del reddito, abbiamo sentito prima, una migliore ottimizzazione dei prodotti. Insomma, c'è tanto che può fare per noi. Questa lista ha una sua controparte quasi identica. Svalutazione degli skills umani, rimozione della responsabilità umana, riduzione del controllo umano e una erosione dell'autodeterminazione, dell'autonomia. Di qua e di là. Da che parte ci buttiamo? Come nei migliori semafori britannici c'è anche il momento giallo, amber. Ed è quello che avviene in molti contesti, soprattutto in quello della medicina, oggi. Tutte le cose che non stiamo facendo perché abbiamo paura che nel farle potremmo farle male. Si chiamano per gli economisti i classici oppostini di costo. Quello che non hai fatto perché hai fatto altro, nel dubbio, quieta non muovere. O quieta non muovere nel settore della medicina, non soltanto del health and well-being che vada a correre, eccetera. Vuol dire che tu hai preferito non ridurre sofferenza umana per non avere problemi di tipo etico. E nel caso in cui poi non facessimo male, eccetera. O parlo di NHS, cose ordinarie, che noi possiamo già fare oggi e non stiamo facendo perché ci manca un quadro che ci dice guarda questa cosa qui va bene, questa si può fare, la società in cui tu opererai, te ne sarà grato. Allora questo è il quadro e da questo che cosa viene fuori? Che come dicevamo prima, avete già sentito, e qui riassumo un po' cose che le due giornate hanno coperto, è da un po' che stiamo cercando di mettere dei quadri intorno a queste sfide etiche generate dal divorzio. C'è un divorzio, ci sono i problemi generati dal divorzio, adesso cerchiamo di gestire questi problemi generati dal divorzio in maniera etica. Questa lista è lunga e parte qualche anno fa. Parte, come vedete, in alto a sinistra dalla House of Lords, con il comitato sulla AI e l'etica, per arrivare recentissimamente ai principi di Beijing e, devo dire, a ottobre le raccomandazioni fatte dal comitato etico per la Data Ethics in Germania. Vi raccomando di leggerle se avete tempo. E siccome sono, attenzione eh Luciano, registrazione, siccome sono tedesche, l'executive summary sono 35 pagine. Tutto il documento, sono l'unica tradotta in inglese, tutto il documento sono 240 pagine, in tedesco. Buona fortuna proprio. Se le leggete avrete una visione molto teutonica e germanocentrica, molto europecentrica, di come dovrebbe essere, diciamo, l'intelligenza artificiale e la data science per un'Europa migliore. Molti buoni spunti, da discutere un'altra volta, ma ha un senso di essere un po' in ritardo. Cioè non solo ci sono questi criteri, non solo, ad esempio, la IEEE che vede lì, 1, 2, 3, 4 riga. La IEEE ha già accordi molto specifici che sono già in corso sugli standard promossi dalla ISO. Per quanto riguarda l'European Group di cui faccio parte con altri, lì abbiamo già fatto il lavoro di promozione di un quadro che copre tra l'altro queste cinque aree, la beneficenza, la non-maneficenza, l'autonomia, la giustizia, le explicability. Notare che la IEEE è un po' più magra in termini di copertura e la Cina, sull'autonomia, magari, ecco, fa un po' più di attenzione come sempre. Ora, in questo contesto, che cos'è che forse vale la pena anche ricordare? E lo dico velocemente perché il tempo non ne abbiamo. Ma stiamo talmente ormai avanti in questo contesto che oggi ci sono almeno due o tre forze che stanno già usando questo materiale per far sì che l'intelligenza artificiale, almeno in Europa, vada in una certa direzione. Ad esempio, due ve ne faccio e sono molto concreti. C'è un consorzio che partirà il primo gennaio che è a larga base tedesca, abbiamo parlato appunto anche con Alessandro, e che è di tipo un manufatturiero e di trasporti, che vuole tradurre queste linee guida in qualcosa che si può certificare a livello industriale. A quel punto l'industria tedesca avrebbe, nel giro di un anno, io sono uno dei consulenti, l'unico consulente etico, poi intanto siamo sempre quattro gatti, l'industria tedesca avrebbe, se dovessimo avere successo, nel giro di un anno una certificazione interna per dire che questa AI è, grosso modo, in linea con i valori europei. Meglio non perderla questa longomotiva in termini di competizione. E l'altro gruppo qual è? Anche qui devo fare un po' di attenzione, ci sono un sacco di NDA che hai firmato, quindi insomma, dovrebbe essere un po' generico, ma capite che tutto il settore dell'auditing, e cioè le grandi aziende che vanno a controllare chi fa cosa, e noi pensiamo che sia Google la grande azienda, ma in realtà è quella che gli sta dietro, che fa auditing a Google, cioè EY che dice Google ha fatto bene o non ha fatto male, se poi EY decide, come ha già deciso e come ha già costruito, un comitato sull'etica dell'AI e ti dice, caro Luciano, vieni a farci un po' i principi sulla balance in cui noi facciamo l'auditing a Google, capite che qua da mo' che siamo andati avanti con questi principi, la loro applicazione, la modalità in cui questo subentra in versione competitiva rispetto ad altri, è business, perché se io ho dei parametri e posso certificare qualcun altro sulla base di questi parametri, e ho svoltato, capite che poi, cioè, semplicemente stampo soldi, letteralmente. Allora qua una bella spinta notevole, forte, cioè proprio di non stare tre o quattro giri indietro sarebbe importante, mi spiace che purtroppo il nostro Presidente non ci sia, perché mi sarebbe piaciuto coinvolgerlo. Va bene, allora, tutte queste e le sfide quali sono? E qua dobbiamo essere un po' veloci perché il tempo qua è ristretto. Allora, dobbiamo rendere l'intelligenza artificiale lavorare contro il far male, ad esempio contro la vulnerabilità che oggi è distribuita. Vi dico, su questo potremmo tornarci molto, ma la vulnerabilità oggi non è soltanto quella medica, quella della sicurezza, è quella sociale, è quella dell'ingiustizia. Oh, e grazie alla tecnologia oggi è democratica, non guarda in faccia a nessuno, siamo tutti vulnerabili a causa della tecnologia. Poi dovrebbe migliorare la decisione e il controllo umano, ma ad esempio nei confronti della complessità. Che cos'è la complessità? Beh, l'abbiamo visto. Le risorse necessarie per risolvere i problemi. Queste sono le grandi città che noi stiamo costruendo, letteralmente. E quando tu ti senti dire Beijing, Tokyo, Rio de Janeiro, no, scusate, San Paolo, decine di milioni di persone che vengono nello stesso posto, se non c'è intelligenza artificiale al nostro servizio che ce le fa gestire, ma come faremo? Adesso non è che stia suggerendo che magari per la raccolta dell'immondizia serva l'intelligenza artificiale, basterebbe anche altro. Però ecco, in contesti più complessi, questo sarebbe utile. Poi dovrebbe essere a supporto della nostra responsabilità, non togliercela. Ma ad esempio, in problemi come questi, cioè noi stiamo distruggendo il mondo, la pentola a pressione sta per scoppiare, è da un pezzo che lo sappiamo, che l'abbiamo messa sul fuoco, che è borbotta, bu 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 bu, decenni. Poi, grazie a Dio c'è anche Greta che adesso si sono svegliati tutti. Allora, avere più responsabilità e quindi avere una ottica di prendersi cura di non consumare soltanto, o magari niente affatto, ma prendersi cura del mondo, l'intelligenza artificiale ci può dare una mano. di nuovo la parte verde, non la rossa e non quella gialla e poi lavorare per l'umanità anche qua, quante volte abbiamo sentito ci porta via il lavoro che non è questa volta l'immigrato, questa volta è il robottino ecco, queste sono le statistiche che voi trovate in giro per il mondo e vi assicuro che se queste fossero presentate da un mio studente di master io lo rimanderei a fare i compiti perché guardate un po' la Bank of England quanti decine di milioni di posti di lavoro vi dice che l'automazione del mondo del lavoro toglierà nel 2036 allora, piccolo esperimento mentale piccolissimo siete nel 1930 il mondo sta cambiando a una velocità pazzesca mai vista prima e vi dico, adesso ti dico come sarà il mondo nel 1960 neanche 66 36 anni dopo 60 30 anni dopo ma chi è in grado? di sparare queste cifre queste sono buttate lì a caso sono, come sappiamo benissimo come si fa in macchina mille amici miei che ho chiamato per telefono e dice senti Pippo, Maria, Giovanni tu che dici? ma si metti 10 ma fai 15 ma anche un etto e mezzo una fetta in più ma sì 2000, 2005, 20, 27, 38 è veramente grave ma allora lo dice il filosofo no, lo dicono i dati che le cose non stanno così questa per portarvene una questa è la statistica dei posti di lavoro che mancheranno e che già mancano nel settore del trasporto su gomma cioè camionisti negli Stati Uniti per chi è troppo lontano qui giù di sotto 2019 già ci siamo centinaia di migliaia di posti non riempiti o il camionista americano guadagna niente male come ricordo i miei studenti quelli un po' meno meglio di un professore associato quindi qualcuno che cioè braccia rubate al volante e in questo caso allora perché è successo questo ma se voi parlate all'associazione American Tracking Association questi sono avvelenati contro la retorica dell'auto autonoma a guida perché gli abbiamo detto no ma chi fa oggi il camionista ma ci sono le auto autonome a guida autonoma il camionista non serve più e quel modulino chi lo riempi il cancello chi lo apre se le uova si sono rotte le hai controllate tu la porta e tutto il resto cioè il lavoro complessivo non è soltanto lo skill di guidare da A a B e ritorno è una cosa molto più complicata cioè che non capiamo no complicata proprio e ti rendi subito conto che le cose sono un po' più complicate ma allora va tutto bene no perché lo stesso lavoro all'aeroporto quello sparirà perché ma perché lì fai l'envelop quello che porta l'autobus da lì a lì e fa solo quello riporta indietro tu trasformi tutto l'aeroporto e quell'autobus lo fai automatico quello sì il track non credo poi non ti dico che stai a Napoli allora qua questo che succede questa è la vera tragedia che stiamo attraversando oggi questi sono i numeri della Lloyd Banking che vi dice abbiamo andato a casa 6.240 persone ne abbiamo assunte lo stesso giorno 8.240 stesso numero 2.000 in più allora dice che bello io ogni tanto qualche futuro lo sento il mondo va di bene in meglio che dove vivono non si sa proprio non è vero che le cose vanno benissimo perché perché quelli che abbiamo preso tra virgolette cioè la Lloyd quegli 8.000 non sono gli stessi è lì la tragedia che quei 6.000 e passa che hai mandato a casa l'hai mandato proprio a casa e gli 8.000 che hai preso quelli sono che hanno 20 anni di meno e degli skills che quelli che hai mandato a casa hanno l'età mia e non li sanno fare le cose allora sempre perché appunto qui la componente politica non può non esserci noi come facciamo a spalmare dal presente al futuro un impatto che in futuro sarà diciamo di grande giovamento probabilmente se facciamo le cose fatte bene ma che oggi è a alto costo sociale e si chiama politica cioè questo spalmare questa curva che non può essere una catastrofe nel senso catastrofe cioè una caduta verticale e poi un'impennata ma facciamo che la cosa sia un po' più moderatamente welfare moderatamente più gentile con tutti ci vuole un po' di gentilezza sociale la gentilezza sociale sappiamo da che parte sta questo non appunto per fare politica ma per far capire che bisogna essere un po' più gentili con tutti e poi dovrebbe renderci tutti quanti un po' più umani l'autonomia l'abbiamo anche sentito oggi molto spesso non fa notizia cioè se tu erodi l'autonomia umana un pochino ogni giorno zitto zitto poco poco lo sentivamo anche stanzia ma chi è che mette il titolone autonomia umana erosa oggi di un qualche millesimo però pensateci Maria è nata oggi immaginate tra vent'anni questi lavori non si fanno quindi contraddico me stesso ma immaginate così un momento di fantascienza che per vent'anni Maria si è sentita dire da TripAdvisor ti è piaciuto questo vedrai che ti piacerà anche quest'altro da Amazon ti è piaciuto questo vedrai che ti piacerà anche quest'altro da tutti questi altri gentilmente ogni giorno senza nessuna cattiveria senza voler fare no alcun grande progetto ma per la natura della tecnologia che ci gentilmente invita a fare questo perché ci è già piaciuto una volta allora come raccontavo ad altri tu finisci che avendo letto il primo Harry Potter poi ti dice che magari ti piace il secondo devi prendere l'aereo ma oggi che leggo massimo leggiamo anche il secondo e ne hai letti due appena esce il terzo Luciano ti è piaciuto il primo il secondo vuoi leggere il terzo why not oh alla fine le hai letti tutti e sette non so quanti sono e nel frattempo però l'opportunità di costi quello che non hai letto perché magari potrei leggere qualcosa di più intelligente ecco non è una gran cosa ma Netflix ti è piaciuto questo film ti è piaciuto quell'altro quando poi entri in quella bolla in cui tutto quello che ti è piaciuto te lo faccio vedere cioè se ti sono piaciuti i cani tu tutta la vita ti piaceranno i cani qua leggermente con gentilezza ma attenzione perché l'autonomia umana è il vaso di coccio accanto ai vasi di ferro siamo sicuri di volerli mettere così vicini gli uni all'altro perché quelli di ferro sono duri fermi stupidi divorziati cioè un po' no fermi e il vaso di coccio finisce che poi magari si rovina allora ci siamo quasi adesso chiudo mi sono rubato tra 4 minuti in più allora la nuova sfida qua abbiamo visto è un divorzio peccato pazienza ce l'hanno venduto male da oggi in poi quando leggete il giornale dice sì sì l'ho vista meglio io che matrimonio qua è un divorzio nel divorzio ci stanno dei problemi notevoli c'è grande successo enveloping e tutta quella roba complessa difficile e tutto il resto poi c'è anche tutta una componente di strutturazione perché tutti quei problemi li possiamo vedere all'interno dei quadri questi quadri etici e giuridici stanno avendo una lunga percorrenza molto al di là di quanto oggi vediamo vedi auditing e tutto il resto bene che possiamo fare allora qua una delle cose fondamentali diventa capire quello che sta a noi ora molti oggi inevitabilmente parlano di innovazione come la parte cruciale ma non è così l'innovazione perché cosa abbiamo sentito oggi anche ripeto da molti dei relatori allora è la governance dell'innovazione che fa la differenza per rendere la cosa molto semplice perché ormai sono le sei e si siamo un po' tutti stancati ma io con questa innovazione che ci devo fare cioè innovazione what for a che fine a che scopo per quale progetto ecco quindi la governance del digitale è la vera sfida non l'innovazione digitale a quest'ultimo livello e la governance come si fa la governance si fa con un progetto scusate prima di dimenticare quella barca lì non è la solita rivista patinata del manager che andato in pensione o un po' brizzolato va verso dove lo porta il vento non è così quello è Platone Platone che ci dice che il ciberneta cioè il pilota della barca è quello che conosce le correnti conosce i venti conosce la barca sa dove vuole andare e ti porta dove devi andare magari contro vento magari a destra a sinistra avanti ma capisce dove andare quindi ha un progetto ha la capacità le competenze per realizzare il progetto e ha un progetto allora su questo progetto è qui che bisognerebbe capire qual è il nostro nuovo progetto umano per il ventunesimo secolo non guardare indietro ma guardare avanti dietro abbiamo dei bellissimi capitoli più o meno diciamo ricordiamoci i capitoli più belli quelli più brutti non li dimentichiamo ma non ci facciamo un vanto ma il capitolo successivo che scriviamo sulla base dei capitoli passati come andiamo e ci siamo adesso su questo progetto umano è l'ultima che vorrei dirvi allora passare da un capitalismo del consumo a un capitalismo della cura ecco questo non è facile ma chi l'aveva mai detto che il ventunesimo secolo doveva avere un progetto facile diciamo no ma questo è difficile e questo richiede fatica lavoro sacrificio intelligenza benvenuto nel ventunesimo secolo ma si può fare si può fare nel senso che si potrebbe mettere insieme il verde e il blu e questa è una frasetta che vi lascio così nel senso il verde di tutti gli ambienti ecologici sociali naturali fisici artificiali che hanno una loro ecologia appunto il verde con il blu delle tecnologie digitali il blu dell'elettricità se volete allora il verde e il blu può essere il progetto umano del ventunesimo secolo che sfrutta il divorzio tra capacità di agire e la necessità di essere intelligente e mette quella forza enorme a servizio dell'umanità vedi la colonna verde evitando il rosso e sfruttando il giallo oh quasi quasi eh ci siamo tutti i pezzi sembrano tornare allora a questo punto io vi ho detto soltanto due cose c'è un divorzio tra l'intelligenza e la capacità di agire e c'è un gran maldimonio che si può fare tra il verde e il blu c'è soltanto da lavorare grazie 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 grazie